Salve a tutti ragazzi, sono l'Arkane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Direi che oggi continuiamo la nostra serie su Enter the Gungeon. Direi che potremmo andare con, immagino, Levasa, perché l'altra volta volevo parlarvi di lei e vi ho parlato della cacciatrice LOL. Comunque Levasa parte con 4 giuttini che vediamo là e dalla pagina di Wiki posso subito dirvi che il nostro revolver ha 5 munizioni e va bene, le solite munizioni infinite. Il nostro Sawed Off che è la seconda arma che vedete lì ha clip size di 6 e 150 munizioni, carino, un fucile che spara un po' a zona. La Molotov è un oggetto utilizzabile, attivo, che quando viene lanciata crea un coso di fuoco che infligge danni, ottima spiegazione. E il Rage Photo che è la cosa che vedete in fondo a destra, fa sì che quando prendiamo danno in una stanza, per quella stanza abbiamo un danno aumentato. Quindi direi che è la nostra scelta, andiamo. Intanto mi sono fatto un paio di partite co-op con la mia dolce metà, che non è la mia parte destra, sinistra, basso, alto del mio corpo, ma è mia morosa che è Wainai Zerga. E comunque abbiamo comprato un po' di oggettini che non so cosa facciano, assolutamente non ho la più pallida idea. Ce ne sono altri qua da sbloccare, questo personaggio l'abbiamo liberato da una cella e ci dice cose, non so di preciso quale sia il mio scopo qui. E bene come non lo sai tu, non lo so neanch'io, quindi se siamo in due ci facciamo forza a null'altro. Comunque entriamo nel nostro Gungeon, siamo carichi, siamo positivi, è una volta buona, potremmo addirittura battere il primo boss, forse anche il secondo. Non lo so, non lo so. Intanto mi sono accorto di una cosa interessante, i nostri cuori, quei tre che vedete là in alto, effettivamente sono composti da mezza pallottola, ma non avevo notato che l'elemento grafico è effettivamente un cuore. Ok, attenzione a queste bombe che esplodono e quella probabilmente già ci colpirà, è un buon inizio, no siamo i migliori, non ci facciamo certo colpire. Abbiamo anche sbloccato un tizio, di cui adesso non ricordo il nome, che ci ha dato una missione di slaying, per cui se noi ci diamo 200 pallottole, che sono queste cose che vedete qua, gli abitanti del Gungeon più o meno di base, ci dovrebbe sbloccare qualche oggetto, se non ho capito male, questi oggetti vengono scagliati nel pozzo, per cui dopo faranno parte degli oggetti che possiamo raccogliere. Ne ho sbloccati diversi, dando soldi a caso a quei due tizi, a quella tizia e al suo golem, immagino sia più o meno un golem, se parliamo, mamma mia, abbiamo preso danno qui, forse avevamo uno scudo, non sono sicuro, quell'uccellino pazzo mi ha comparso a un face, mi sono trovato l'uccello pazzo in faccia, infatti su questa stupidaggine ho pure preso danno, il migliore degli inizi, non lo so, ma uno dei vari inizi a cui dovremmo abituarci, se vogliamo andare avanti, certo è che la mia velocità stamattina è veramente imbarazzante, abbiamo già preso un intero cuore di danno, ma se dovessimo morire presto non è un problema, tanto sono le nostre prime run, è naturale essere in nubia, penso anche che sia la cosa divertente dei giochi nuovi, se si parte già skillati, ma chi ce lo fa fare, e su questo esplosioni nucleari, atomiche, di varia natura e vario genere, che alla fine però stranamente non comportano la nostra di partita, potremmo anche usare la nostra arma B, che è questo mozzato, per una traduzione che non so bene, certo è che i fucili mozzati, a canne mozze esistono, è interessante il fatto che il gioco sia già proposto in italiano full, cioè è stato rilasciato abbastanza completo, che è una cosa molto positiva, se pensiamo, non lo so, a altri giochi, The Binding of Isaac non vedrà probabilmente mai la luce in italiano, ma credo che possa anche andare bene così, se pensiamo ad altri giochi, insomma, dello stile indie, è difficile che la traduzione italiana sia buona, ed è anche difficile che esca onestamente, il nostro shopperino ci dà delle munizioni, una bussola, col senso di orientamento, una chiave, molto bene, una corazza e un cuore intero, il cuore intero potrebbe servirci a costa 30, ma la chiave potrebbe essere interessante, non abbiamo ancora trovato la stanza segreta di questo primo livello, e non mi dispiacerebbe affatto farlo, ci serve una seconda chiave e vedo qua il barile d'acqua, magari cercando di non fare come l'altra volta, ops, dove abbiamo miseramente fallito sparando noi stessi alla cosa, la cosa, la mia concentrazione stamattina è i livelli massimi di sempre raggiunti, comunque abbiamo sparato a quel barile d'acqua che serviva per spegnere quel cammino in quella stanza, sapete sicuramente di cosa sto parlando, cheat, questa volta cerchiamo di non distruggerla e magari potremo anche andare a vedere cosa ci riserva la stanza segreta, perché sarei curioso, sono entrato in modalità co-op con un mio amico, l'abbiamo aperta, siamo andati a vedere cosa c'era dentro, siamo morti dopo due stanze, per cui diciamo che il presagio è funesto, oh bel danno qua, stavo pensando che queste cose si potevano uccidere con una roto schivata ben piazzata, infatti ho preso danno semplicemente pensando, allora questa cesta per ora la lascerò qua, questo scarigno, dire cesta penso sia un po' brutto, perché non è una cesta e forse è una chest, ma lo chiameremo scarigno, credo abbia senso anche una cosa di questo tipo, giusto perché è un gioco tradotto, questa cosa non l'ho mai vista ed è uno specchio, ed è uno specchio che non ci permette di fare nulla, proviamo ovviamente a sparargli e si rompe e abbiamo un teschetto, abbiamo forse aumentato la nostra curse, la nostra maledizione? probabilmente sì, non so bene che effetti abbia, non so che avere un po' di maledizione ci serve per fare certe cose e possiamo alzare il nostro livello di maledizione magari per esempio sparando nello shop, facendo altre cose barbare, ma in questo momento non so bene che effetti pratici abbia sul nostro gioco, lo andrò a vedere perché la mia idea era andare a vedere mano a mano le cose, mano a mano che le scopriamo, le proviamo sulla nostra pelle, intanto abbiamo rotto uno specchio, quindi immagino che i 7 anni di sfortuna canonica che immagino si traducano in 7 run dove moriamo molto presto ma possiamo dare la colpa alla sfiga invece che la nostra skill molto bassa, magari per queste cose serviva l'arma base, grande dodge qui in realtà, è stato solo stinto di sopravvivenza, un proiettile mi stava venendo in faccia per tornare a di nuovo doppi sensi ambigui, vari ed eventuali, non voluti, assolutamente casuali, ma il solo sottolinearlo non fa di meno a gran cosa, ecco abbiamo trovato, abbiamo trovato il camino, ottima cosa, direi che ce lo teniamo per dopo, completerei prima il livello perché sono ottimista sul fatto che possiamo farcela e ho dovuto prendere subito quelle munizioni che avete visto perché se le lasciamo lì vengono rubate, al loro posto troveremo un foglietto di carta che ci dice ah ah sono passato di qua, ti ho fregato o qualcosa di molto simile, ecco accennavo prima le traduzioni, è un'ottima cosa che abbiano fatto una traduzione subito, ammiro molto che il gioco sia uscito completo e non abbiano lasciato una parte mezza per poi magari riprenderla un giorno, per poi non riprenderla più, invece hanno fatto un buon lavoro, hanno tenuto il gioco in cantiere per un po' di più e hanno già prodotto un buon gioco, un buon titolo completo, mannaggia quante ceste dobbiamo lasciare qua per quella stanza segreta, ci sta, ecco poi magari rilasceranno molte patch, correggeranno dei bug, che mi era capitato di rimanere bloccato nell'ascensore, ok il boss, beh io direi che con coraggio e con stile andremo subito a vedere chi è questo boss, e giù giù, comunque apprezzo molto che il gioco sia stato rilasciato completo e non apprezzo molto che ci sia questo boss che mi aprirà come una cozza primavera, una cozza siberiana immagino, e è una mezza reference a un boss di Metal Gear, me lo ricordo anche perché era uno dei primi Metal Gear, questo grosso manzo con questa grossa Gatling Gun, suppongo tradotto in becco fiero, ah mamma che rischio, magari usiamo, ok, volevo usare una roto schivata, no in realtà volevo usare un obliteratore, ma ho sbagliato bottone, vi assicuro che la prossima run sarà migliore di questa, devo ancora prendere il ritmo cheat, ve lo assicuro, poi magari moriremo orribilmente, ma almeno se riusciamo a vedere la stanza segreta sarei già contento, magari non morendo qua, dovrei usare un po' più spesso gli obliteratori, ma sono di un tard stamattina che non avete idea, sarà che mi si è liberato uno spot coaching, e sto registrando questo filmato invece di lavorare, ma una volta che ho la mattina libera, me ne approfitto per giocare con po', e non ho molto tempo per giocare al di fuori dei filmati che sto facendo, magari se fosse un po' meno tonno cambierei arma, e cerchiamo di non morire qua, perché sarebbe imbarazzante, sarebbe naturale, conoscendomi tutto è possibile, ma diciamo che forse stiamo giocando proprio male, ops, l'abbiamo fatto, peccato, avrei voluto veramente vedere cosa c'era in quella stanza segreta, ma non disperiamo, il becco di fuoco ci ha segato, riavviamo instantly, bella figura su questo terzo filmato, ma adesso ripartiremo con maggior concentrazione, e con maggior consapevolezza di ciò che stiamo facendo, forse, non lo so, è tutto possibile, lasciamo stare, comunque mettiamoci su il nostro fucile, che non è proprio un'arma che gradisco molto, secondo me abbiamo anche sbagliato a tenerla su contro quel boss, forse dobbiamo preferire un po' di range, immagino possa fare qualche danno in più dell'arma di base, questo fucile, ma onestamente non la vedo proprio la migliore delle armi, intanto perdonate il cambio di tono, ma mi vedevo già morto, e dopo aver detto che ci saremmo concentrati un po' di più, prendere danno subito così sarebbe stato un po' imbarazzante, ma onestamente se siamo qua a fare filmati da newbie, non possiamo imbarazzarci dei nostri fallimenti, ma dobbiamo sfruttarli come occasioni per migliorarci, forse, o forse dobbiamo solo divertirci essendo un gioco, probabilmente sì, complimenti per questo quadro, è bellissimo, mi piace veramente molto, ne vorrei anch'io uno nella mia camera, per ricordarmi che Becco di Fuoco ci ha segato giustamente, carina anche la traduzione, ho fatto qualche partita in inglese, le prime in realtà le prime, tranne il tutorial che pensi di aver fatto in italiano, e devo dire che in inglese molti doppi sensi sono ben resi, alcuni doppi sensi ovviamente perdono un po' il significato in italiano, ci sta, è legittimo, se pensiamo a un classico come per esempio Frankenstein, diciamo il film che più o meno tutti conoscerete, immagino forse, e di cui adesso mi sfugge anche il nome, è imbarazzante, però avete capito sicuramente di cosa sto parlando, la traduzione in italiano è stata anche ben resa, le traduzioni negli altri linguaggi perdevano un tot, il rampino non ho idea di che cosa faccia, la chiave è buona a sapersi, si sa mai che riusciamo a fare la nostra stanza segreta, comunque ok, ah Frankenstein Junior, ok, non so perché le cose mi vengono in mente a distanza di qualche secondo, da quando inizio a pensarle, immagino che ci sia traffico nel mio cervello, ho sentito dire che è nato il terzo neurone, per cui immagino ci siano dei preparativi per una festa, così, una festa di benvenuto, e complimenti per questo danno veramente idiota, pensavo fosse già morto, ok, basta dire troppe stupidaggini, ho bisogno di più concentrazione, a quanto pare questo gioco non è affatto facile a mio avviso, o meglio, anche Isaac all'inizio non era poi troppo facile, ma una volta abituati si è diventato un gioco un po' più facile, immagino che sia solo una curva d'apprendimento estremamente ripida dal mio personale punto di vista, che è quello del nubo che si getta a capofitto, magari per queste melme usiamo la pistola che credo funzioni piuttosto bene, voglio provare se una rota schivata lo uccide, sì, è vera questa cosa, abbiamo trovato la seconda chiave, ottima cosa, le possibilità di trovare la nostra stanza segreta ci sono, non sono reali, possiamo addirittura farcela, sono reali, sembra l'inizio di qualche strana battuta, di qualche matematico, che dice stupidaggine sui numeri, ma in questo caso non lo sarà, perché il liceo scientifico l'ho fatto un tot di tempo fa e non ricordo nulla, ottima la terza chiave, non ricordo nulla in generale, non solo di concetti imparati, più o meno presunti imparati, nei tempi dei miei studi liceali, non è passato poi così tanto, forse più di quanto voglio ammettere, ma di certo non troppo, diciamo che poi abbiamo seguito altri tipi di studi, e do la scusa per aver dimenticato tutto, potrei usare questo, e ce l'abbiamo fatta, no, l'abbiamo mancato, probabilmente, no, dai, dovremmo averlo colpito, quel interruttore ha fatto sì che cadesse, quel lampadario, proprio in stile vagamente western, sparatoria, e sparatoria, probabilmente, posso anche usare parole che esistano, e non parole inventate e sbagliate, ma non importa, posso farlo, potrei farlo, ma il solo fatto di poterlo fare, non è una scusa per fare le cose giuste, ovviamente, impariamo dei nostri errori, facciamone a go go, ma magari, non approfittiamo, insomma, troppo della fortuna, voglio riattivare questa cosa, non posso, ok, non ho ancora visto il barile, immagino non posso, non debba comparire necessariamente, in tutti, in tutti i primi livelli, suppongo che un paio è solo nei primi, ma le mie esperienze poca, e sono solo, diciamo, speculazioni, con bassa conoscenza, tutto può essere, però vorrei veramente vedere, eccolo qua, qui c'è il barile, molto bene, ricordiamocelo, ah, aspetta che c'è, c'è un pallottolus là sotto, chissà quanti ne abbiamo uccisi, potremmo andare a controllare dopo, cerchiamo di non distruggere quel barile, perché mi servirebbe, quindi, e quindi lo distrugge al primo colpo, LOL, e quindi complimenti a noi, neanche questa volta, vedremo la stanza segreta, quindi ammirerò per qualche secondo, questo quadro e penserò a quanto sono idiota, qui è abbastanza, disse un ciocobo, probabilmente, visto il suono che ha prodotto, neanche questa volta, andremo a vedere cosa c'è nel livello segreto, ma abbiate fiducia, siamo solo alla terza, alla nostra terza run, prima o poi riusciremo, comunque complimenti per aver, roto schivato con stile dietro a quel mostro, mob, e poi essere andati a rompere il barile, abbiamo trovato, la pistola aliena, spezza scudi, come mai spezzi di scudi, cosa ci racconta questa arma, andiamo a scoprirlo, la pistola aliena è leggemonia, ha combattuto e vinto tre grandi guerre contro razze aliena, al termine della seconda, vennero razziate centinaia di queste pistole, ok, non ci dice assolutamente nulla sul perché di questo nome, né su cosa faccia quest'arma, lo scopriremo, intanto ci manca il boss che è lì, lo sciopperino che è lì, un chest da aprire, andremo a vedere anche cosa c'è in quell'ultima stanza, perché potremo aver bisogno di cash, immagino che possa aver senso esplorare per bene i livelli, immagino troveremo il maledetto camino, immagino eccolo qua, e mannaggia noi, non so, magari c'è la possibilità che scompaia un secondo, una seconda, un secondo, no chest, barile, non so parlare, abbiamo comunque due chiavi, non ho visto se ce n'era una nello shop, terrò questa cesta per dopo, dai su via, abbiamo un'arma per provare a far fuori il boss, abbiamo ancora la nostra molotov, che devo ancora utilizzare, devo ancora utilizzare proprio in generale, cambio di boss, dovremmo avere i gemelli Derrick, probabilmente è una versione alternativa, un super figo con gli occhiali da sole, un altro bambaluco, sempre sorridete, quello con gli occhiali da sole è sicuramente più figo, quest'arma non mi piace, perché ha il caricatore, cioè è un'arma che si carica, e ogni volta che ho le armi che si carica, ah no, possiamo anche sparare e basta, ok, buona sapersi, le armi che si caricano, già sono duro nel fare le roto schivate, quello che è, ah però ok, se teniamo premuto carica, se premiamo più volte spara, ecco, già sono duro a fare le roto schivate, se poi devo anche caricare i colpi, a tanti auguri, dovrei abituarmi ad usare i tastini dietro, e non il tastino davanti, io mi sono capito, mentre dicevo queste cose, voi no, era il vecchio quadrato di Joyped della Playstation 2, 2, 1 eccetera, non so a che tasto corrisponda, potrei andare a vedere prendendo danno, ok, è la X in questi Joyped dell'Xbox, però ce la stiamo in qualche modo cavando, abbiamo preso danno, perché sono un idiota, probabilmente, ma devo dire che complimenti per la roto schivata della salvezza, la salvezza dei nostri avversari, non la nostra, ma ok, ok, se uso il tastino dietro, a quanto pare è più facile per me roto schivare tenendo caricato, e su questo ovviamente prendo danno, cerchiamo di battere almeno il primo livello, sarebbe veramente imbarazzante morire di nuovo al proprio al primo boss, e abbiamo buone potenziali per battere almeno anche il secondo, mi è capitato anche ieri in una run a 2, sebbene mia morosa sia morta al primo schema in quella run, perché era un po' stanca a dotto come scusa, poi sono arrivato a vedere quasi il terzo boss, o meglio diciamo a intravederlo, perché penso che mi abbia ucciso proprio appena appena visto, però dai, su via, abbiamo ancora un solo HP intero, abbiamo giocato abbastanza male come al solito, prendiamo un egemon cosa, troviamo anche un'altra chiave, raccattiamo le nostre cose, ieri ho fatto persino una run perfect, ottimo questo cuoricino, e questo è il fucile da cecchino, una mira infallibile, vediamo un po' come funziona, ok spara, va bene, non fa molte altre cose, vediamo se per caso c'è un barile, no, a quanto pare può essercene solo uno, ahimè, però abbiamo quattro chiavi, che è un'ottima cosa, quindi direi, andiamo ad aprirci quel chest, andiamo a vedere cosa ci offre il nostro shopperino, che ci offre quantità di HP, quindi io onestamente ne prenderò uno, quindi scendiamo al prossimo livello con 3 HP, ok, ecco, avendo fatto una flawless victory, un po' come in Mortal Kombat, mi ha dato anche un contenitore extra di cuori, che non mi ha affatto dispiaciuto, cosa sei tu? Sei una sintetizzatore di munizioni, munizioni se uccidi a volte, molto buono sembra questo oggetto, non credo che possiamo fare altro in questo livello, non vedo altro da fare in nessun modo, quindi direi che ci ne andiamo, andiamo al secondo livello, per quanto abbiamo giocato veramente male, scendiamo con 2 cuori e mezzo, che non è così male come cosa, scendiamo con un paio di armi interessanti, un buon repertorio direi, e scendiamo soprattutto con la consapevolezza, che possiamo farcela ragazzi, me la sento, me la sento veramente, me la sento nelle ossa, disse Mr. Bones, no, non so chi sia Mr. Bones, ma probabilmente lo disse, immagino fosse un mob di Isaac, suppongo, vediamo un po' questo fucile da cechino, mira infallibile, effettivamente non è male, fa anche un bel po' di danni, mi pare di capire, fa decisamente un bel po' di danni, credo userò quest'arma, forse avrebbe senso tenerla per il boss, visto che ne abbiamo altre di armi, mira infallibile, e su questo non solo prendo danno, perché sono un imbecile, ma riesco anche a mancare, quindi l'infallibilità, a quanto pare, è un po' la stessa del Papa, per cui vale solo se parla ex cathedra, quale Omnium, Cristo Fidelis, Pastor e Doctor, volendo fare anche quello che, una volta sapeva il latino, e adesso sa solo dire stupidaggine, probabilmente sbagliando tutte le coniugrazioni, però ok, diciamo che siamo infallibili solo se colpiamo, se non colpiamo, evidentemente non siamo infallibili, ci può stare come cosa, un'altra pallotta che se ne va, però tu chi sei, non so se ti ho mai visto, comunque per favore muori, non so chi sia quel mob, lo scopriremo solo vivendo, o meglio solo morendo, perché una volta morta andrò a vedere, effettivamente, che rischio, via, uh che rischi, andrò a vedere solo una volta morta, effettivamente chi era, carina questo layout di stanza, credo che non so se l'ho mai vista, forse no, direi che continuiamo a esplorare randomicamente, abbiamo preso un altro mezzo cuore di danno, ci sta, uh qui pensavo, non so perché fosse una stanza separata, qua prenderemo danno, eh ma usiamo con stile, il nostro obliteratore, qui sono un po' scomodo, lo ammetto, ma in teoria abbiamo una mira infallibile, quindi forse possiamo ucciderli anche da qua, sì forse no, ok in qualche modo sì, a quanto pare migliora un po' la nostra mira, ma quando la nostra mira è veramente molto bassa, perché non sappiamo quello che stiamo facendo, a quanto pare c'è un limite al quale il software e l'hardware non possono portarci, quel limite è la nostra scarsezza, immagino si dica scarsezza, ma in realtà è solo mancanza di esperienza, tutti nascono scarsi, nessuno nasce già bravo, credo, non lo so, e poi devo dire che avendo visto un po' di streamer che ritengo molto bravi, con questi tipi di giochi, per così dire, posso dire che anche loro non hanno performato così bene nelle loro prime run, non mi senta così in colpa, anche se falliamo, tanto il nostro obiettivo è migliorare mano a mano, infatti il gioco ci premia con questo mezzo HP, siamo tornati a due cuore e mezzo, lo shop, abbiamo solo 27 soldini, ci dà un mezzo cuore a 24, delle chiavi, uno scudo, a quanto credo comprerò quel mezzo cuore, probabilmente non aveva senso farlo, era meglio aspettare un po', probabilmente, qui abbiamo questo, che probabilmente ci conviene battere con la nostra arma base, forse no, perché c'è anche dell'altro mob, e a quanto pare ho fatto un po' un errore, perché qua rischiamo, ok, ripetiamo la nostra arma, va là, cerchiamo di fare un po' di danni, oh, qui non volevo usare questa, ma va bene, lo stesso, spara abbastanza velocemente, e sto cambiando armi senza un motivo particolare, semplicemente non so quello che sto facendo, questo fucile non è che mi piaccia particolarmente, tre chiavi, sicuramente apriremo qua, uh, mi piaci già, e sei una classica, la classica, ok, 200 colpi per quest'arma, mi piace, non so cosa faccia, ma potremmo anche andare a vedere, un po' di oggetti nuovi che abbiamo raccolto, allora abbiamo, una sedattica, via quel sorriso dalla faccia, questa è l'arma di base, la spezza scudi l'abbiamo letta, la mira infallibile, bassa credenza di fuoco, alto potere perforante, i fucili acichili vengono realizzati a mano degli armorti, armorti, i fucilieri, non so cosa siano, perciò ogni esemplare ha prestazioni leggermente diverse da quelle di tutti gli altri, il cangio non offre molta assicurazione per i tiri a distanza, ma qua non ce n'è bisogno, quest'arma non delude, ok, e questa invece è una classica M1-9-1-1, pistola del design classico, che spara classici proiettili di piombo, contenuti in un classico caricatore di dimensioni contenute, nelle mani giuste diventa un classico dello storminio, ok, ci sto, ricordiamoci anche di usare la molotov ogni tanto, ricordiamoci, è come se voi poteste aiutarmi a ricordare cose che dimentico, ma devo ricordarmi di farlo, perché mano a mano che andiamo avanti con il nostro gameplay, dovremo diventare un po' più bravi, non un po' più scarsi, quindi la userò lì, fa anche un bel danno, effettivamente dovrebbe essere un oggetto da utilizzare un po' spesso, vedo che si è ricaricata di una piccola tacchetta, immagino che si possa riutilizzare col tempo, forse avrebbe avuto senso tenerla per il boss, quest'arma mi piace, fa un bel danno, abbastanza colpi, qua prenderemo danno, quindi forse è il caso di usare un obliteratore, suppongo di essere stato quasi intelligente, forse questa pallotta non so se l'ho mai vista, ma non mi aspetto nulla di particolare, allora ricarichiamo, cosa ricarichiamo? Ricarichiamo un fucile da cecchino, che mi sembra un'ottima cosa, ad utilizzare questa avremmo potuto, ad aver utilizzato un po' di più questa, avremmo forse potuto ricaricare questa, che non mi sembra affatto male, come arma almeno, spara abbastanza velocemente, mi pare faccia anche un buon danno, e non credo si possono caricare i colpi, no, tenendo premuto spara a raffica, via, mamma che rischio, a quanto pare non sono così difficili da evitare, questi cecchini, oh oh oh, te non mi piace affatto, non ho ancora capito bene, come, che strategia adottare contro di te, immagino che stare un po' alla larga funzioni, forse dovrei attirare i colpi un po' in una parte, e poi andarle ad evitare, immagino che dovremmo solo affrontare questo, mob, boss, mob, probabilmente un mob un po' particolare, un po' di volte in più, per diventare perfetti, grazie alla nostra pratica, comunque là c'è un cecchino, che mi sta abbastanza antipatico, perché sta cercando di uccidermi, anch'io sto cercando di uccidere lui, ma almeno io ho, il loot e il furto come, diciamo, movente, lui non so cosa voglia fare, perché in realtà sta difendendo del loot, che non è suo, per cui, cioè io sto cercando di rubare del loot, che non è mio, per carità, però, almeno io sono la componente attiva, no, di questa cosa, loro sono la componente passiva, e ce l'hanno con l'eroe, che in questo caso è più o meno, un evasa, no, siamo degli evasi, forse sì, ecco, però, diciamo che forse non siamo proprio i buoni, in questo gioco, che forse una storia non ha, o meglio, non è così importante la storia, in questo tipo di giochi, possiamo dire, quando forse, il lato divertimento, gameplay, e quant'altro, ce la stiamo cavando relativamente bene, abbiamo preso, un mezzo cuore di danno, ci poteva stare, in realtà ne abbiamo preso anche un altro, ma, lo abbiamo anche recuperato per strada, ma di certo, non possiamo lamentarci di come sta andando, direi che, il teleport abbassa ancora di più, la mia fatica, quindi, e vai, fatichiamo meno, cosa siete voi? Ok, vi ribaltate, fate fuoco, qui ci serve la chiave della cella, e abbiamo anche delle cose interessanti da prendere lì, e anche qui ci serve la chiave della cella, e qua, a quanto pare, possiamo sbloccare un altro omino, un altro componente del varco, della zona iniziale del dungeon, questa cosa, ancora non ho capito cosa fare, l'ho già trovato un paio di volte, l'altare è vuoto, non fare niente, ok, da qualche parte in questo dungeon, andrò a vedere, da qualche parte in questo dungeon dovrebbe esserci anche la chiave della cella, che per ora non ho ancora visto, ma sono fiducioso del fatto che la troveremo, qui c'è un altro chest che apriremo, e c'è una cosa a forma di cuore, la fondina a cuore, batte forte, mi piaci, cosa fai mia cara? andiamo a vedere nel nostro armonomi con la fondina a cuore, è qua sotto, ed è un oggetto passivo, va ad aggiungersi ai contenitori a forma di cuore, ok, buono a sapersi, ed effettivamente abbiamo preso un HP up, praticamente, molto molto buona questa cosa, ci fa decisamente comoda, non so se uno dei pochi oggetti, pochi di quegli oggetti che ho sbloccato, regalando soldi a caso a quei due, a quei due tizi, di cui adesso non ricordo il nome, la signorina, ragazza, chi era, e il golem, che è il suo compagno affidato, ora, non so che armo usare per il boss, immagino potremmo usare fucile da cecchino, che a tanti colpi dovrebbe fare abbastanza danno, e il boss è lei, una specie di medusa, più o meno, non so se ci pietrifica, forse sì, però, è veramente una figacciona, e è armeggera maledetta, la gorgorma, per cui si è più o meno una medusa, è una gorgone, per cui è una di quelle che in teoria possono pietrificarci, fa questa cosa per terra, che ci farà del danno se ci stiamo troppo sopra, almeno questa è quello che più o meno mi è parso di aver capito, e per il resto non lo so, e su questo ovviamente prendo un danno abbastanza idiota, e per cui ho fiducia del fatto che 3 HP possano bastare per farla nuovamente fuori, certo è che se sono veramente così lento ad usare questi obliteratori, a mia discorpa posso dire che non sono secondo me proprio super intuitivi da utilizzare, nel senso che bisogna premere contemporaneamente le due levette, e ok, quelli proiettili che bislucicano si dividono in più parti, buono a sapersi, questa cosa non so cosa faccia, per cui nel dubbio roto schivo, cerco di evitarla, non possiamo caricare, ah no, si possiamo caricare, sparerò a caso perché immagino sia più o meno lì, e su questo sparo dall'altra parte del livello, ok, cerchiamo di evitare il danno qui, è già sotto alla metà degli HP, abbiamo buone possibilità, ho fiducia sul fatto che questa volta vedremo un terzo livello, non so se è merito nostro, nel senso che forse rispetto alla prima partita che vi ho proposto abbiamo decisamente migliorato, ma bella forza, stavamo giocando talmente male che difficilmente potevamo giocare peggio ancora di così, quando si raggiunge il fondo si può scegliere se salire o scavare, ma in pochi sceglierebbero di scavare una volta raggiunto il fondo, anche perché immagino che se si chiama fondo probabilmente sarà un fondo fuso alto un centimetro, quindi sarà difficile poi superarlo, abbiamo fatto la gorgone, abbiamo subito danno, non lo so, sì a quanto pare sì perché non ci dà nulla, ci prendiamo i due e giocosi, troviamo effettivamente la chiave della cella, molto bene, ci prendiamo il nostro HP, ci prendiamo il nostro scudo, ci prendiamo questa gun, grosso uccisore di nemici, mi piace un sacco il nome di quest'arma, andiamo a vedere cosa è e cosa fa, ed è, andiamo a vedere su armi, grosso uccisore di nemici, arma caricabile, caricalo e fai piazza pulita nella stanza, un classico del dungeon, è una delle prime armi importate tramite l'ufficio acquisizioni, la travolgente potenza di fuoco del gun è in grado di annientare intere legioni di armonti, armorti, armonti, ok, allora abbiamo trovato, dicevamo la chiave delle segrete, andrei a liberare il personaggio piuttosto che ad aprire la cesta, per carità immagino sia interessante anche la cesta, ma suppongo che questa chiave sia one shot, infatti, vediamo chi è, ehi, grazie per avermi salvata, quindi è una lei, torna al varco, ma sono sicura che ci rivedremo, ok, non mi dici niente di più, alla prossima, suppongo che ci rivedremo, alla prossima, va bene, non mi dici nulla di più, ora quel personaggio dovrebbe comparire sopra al varco, per cui dovremmo avere possibilità, diciamo, di trovarla e magari sbloccherà cose, diciamo che gli shop si sbloccano mano a mano che giochiamo, vorrei andare a vedere lo shop, se lo trovo, eccolo qua, giusto perché abbiamo qualche soldino, e magari c'era qualcosa di interessante, delle chiavi, uno scudo, un innesco supremo, che ha un nome fichissimo, ma non so cosa faccia, una corazza costa 30, va bene, la prendiamo, forse 30 era troppo, ma immagino che al prossimo livello, comunque, costerà un po' di più, allora, questo oggetto nuovo ha solo 25 proiettili, buono, cioè, buono a sapersi, non così buono a sapersi, ma suppongo sia meglio saperlo, piuttosto che no, abbiamo veramente un sacco di armi, credo, partirò con quest'arma nuova, per vedere cosa fa, immagino faccia danni, all'intera stanza, forse, non lo so, sembra un nome veramente ficco, ha poche cariche, quindi immagino sia veramente fortissima, comunque intanto, terzo livello ragazzi, dai, abbiamo abbastanza HP, abbiamo abbastanza armi, siamo alla miniene di polvere nera, il terzo livello del Gungeon, l'ho visto solo una volta per ora, per cui immagino subiremo danni, in maniere molto imbarazzanti, ma perché dobbiamo ancora conoscere, chi sono i nostri nemici, ok, è a caricatore questa cosa, già non mi piace, però, fa un sacco di danno, fa veramente un sacco di danno, ok, ritiro il fatto che quest'arma non mi piaccia, mi piace e tantissimo direi, quindi cerchiamo di utilizzarla un po', con frequenza, qua a quanto pare non avrei dovuto farlo, e non credo si possa rilasciare, no, a quanto pare no, abbiamo sprecato uno delle poche munizioni, complimenti a me, a quanto pare devo aspettare, questi carrelli sono già stati artefici della nostra morte, in altre circostanze, cerchiamo che non lo sia ancora, fa veramente malissimo, caccia completata, abbiamo ucciso 200 pallottoloidi, a quanto pare, ma fa veramente male quest'arma, è veramente OP, a quanto pare, molto bene, magari si carica in un po' di tempo, ma direi che ne vale la pena, credo che continuerò ad utilizzarla, o forse dobbiamo tenerla per i boss, ma arriveremo al boss, non lo so, potremmo usare ancora un po' il fucile del cecchino, perché vorrei ricaricare anche quello, immagino, sembra comunque una buona arma, figata questa cosa dei carrelli, del tizio che mi spara dal carrello, cioè figata, si fa per dire, bellissima idea, ma probabilmente ci farà danno, a quanto pare no, cerchiamo di mantenere un po' di concentrazione, perché a mio avviso, questo gioco, richiede effettivamente, di essere un po' più focus del normale, troviamo addirittura un'altra arma, che sembra una ficcata, mitra thompson, ti riempie di buchi, ok, andiamo a vedere cosa fa questo nuovo mitra, guardate armi che abbiamo, pazzesco, arma automatica, prediletta dei gangster, e dalle munizioni spettrali, nei suoi oltre 100 anni di storia, quest'arma ha collezionato soprannomi, su soprannomi, quali tommy gum, scupa da trincea, macchina da scrivere di chicago, e ammazza stemi, va bene, va bene, mi piace, è molto carina, traduzione è anche fatta abbastanza bene, la proviamo un po' direi, questa stanza non mi piace affatto, che sia dove siamo morti l'altra volta, probabilmente si, porta da qualcosa questa stanza, diamo un occhio, perché vorrei capire come mai, l'altra volta abbiamo cercato di salire là, e non ce l'abbiamo fatta, che ci sia un altro carrello, no, ma come si farà a salire là, con la roto schivata, forse, cosa abbiamo fatto noi l'altra volta, forse dobbiamo saltare, dai ci proviamo una volta o due, e se moriamo la smettiamo, allora mettiamoci in linea, saltiamo, no, non si fa così Andrew, non si fa così, proviamo un'altra volta, con la roto schivata, e se proprio non va Amen, ok, abbiamo almeno capito, come si fa a salire su quel carrello, lol, complimenti, cerchiamo magari, di non morire orribilmente, immagino che dovremo salire là, vai piano piano, piano piano, che siamo scarsotti, via, uh, ok, la figura barbina, è stata più o meno corretta, in qualche modo, salta, wow, difficile, ma solo perché è la prima volta, che lo facciamo, immagino che dovremo salire su quello, mamma mia, abbiamo roto schivato sul posto, non so come ho fatto, di certo non l'ho fatta apposta, ok, anche qua abbiamo rischiato decisamente, uh, ce l'abbiamo fatta, ok, uh, abbiamo trovato un oggetto, che è la polvere arcana, dal profondo, andiamo a vedere cosa fa, questo oggetto, almeno abbiamo imparato qualcosa di nuovo, componente per proiettile, prima che il grande proiettile colpisse, l'allora Gungeon Master aveva questa polvere per i suoi esperimenti, ed allora i pallotoloidi continuano a restrarla, in attesa del ritorno del proprio padrone, va bene, non ho capito cosa faccia, la proverò ad utilizzare, non fa nulla, suppongo la terremo, immagino, oh, forse non dovevo fare così, e siamo esplosi, abbiamo preso anche dei danni, va bene, immagino che questo carrello ci porterà più o meno a casa, perdonate la durita, no, forse no, dobbiamo rifare di nuovo il giro, sì, a quanto pare sì, o questo carrello ci porta direttamente a casa, ci porta direttamente a casa, sei adorabile, abbiamo preso in totale due danni, va bene, abbiamo perso la polvere, no, abbiamo preso la polvere, ok, e ci manca quella stanza là sotto, la andremo a vedere, non sa bene cosa sia questa polvere arcana, come al solito andrò a vedere dopo cosa fa, mi piace questo mitra, questo Tommy Thompson, o come si chiama, mi pare abbia un'ottima carenza di fuoco, non mi pare faccia tantissimo danno, e credo che la sua precisione non sia pazzesca, ho l'impressione che questo mob che sta diventando dei campioni, per cui dovrebbero avere più HP e farci più danno, dipende dal fatto che stiano diventando dei campioni proprio da quel tizio lì sopra, suppongo, ma è una mia supposizione, forse avremmo dovuto far fuori prima lui, forse sì, forse no, voglio continuare a usare quest'arma perché mi sembra fichissima, cosa sei tu? sei una gelatina di morte, immagino, quindi sei più o meno una gelatina piena di zuccheri, che fa male solo se siamo dei figli dei dentisti, perché probabilmente, oltre al male denti che può fare lo zucchero, immagino, ma non magari in piccole quantità, immagino che un padre dentista possa picchiarci fortissimo, e magari usare apparecchi di tortura contro di noi, e punirci per la nostra impia bambinità, perché si dice la bambinità, e quindi se siamo piccoli e vogliamo mangiare, quella cosa non so se andava rotta, forse sì, forse no, quella cosa invece non avrei voluto romperla, perché magari avrebbe potuto essere utile, non so se quel cammino possa comparire anche nel terzo livello, onestamente lo ignoro, però credo che avrebbe senso lasciarli interi, poi magari per scoprirlo, poi magari mi informo, non voglio rimanere nub a vita, l'intenzione era fare una ricina di run, un po' all'insegna della nubiaggine, migliorando in qualcosa, e poi farle le altre, magari studiando un po' di più la questione, e diventando giocatori migliori, e su questo ovviamente rotoschiviamo nel nulla, ma avevo un po' di fretta per riuscire ad arrivare qua, in vera realtà bastava affrontare questa stanza con un po' di pace, un po' di calma, ce l'avremmo fatta comodamente, chi siete voi? Siete il famoso, famoso ormai no, Grisù, che era qualcosa che vedevo quando ero veramente piccolo, ed era un piccolo draghetto che voleva fare il pompiere, ma credo che ormai sia sparito dalle programmazioni, immagino da anni, complimenti per questo danno, dovrei prestare un po' di attenzione, perché onestamente vorrei vedere almeno il boss, quel proiettile mi è venuto addosso, non sapevo se sarebbe mosso, ora che lo so magari farò maggiore attenzione, va bene, complimenti per aver mancato il 98% di questi colpi, e tu te ti ricordo, sei quello che poi spara, caricatore vuoto, abbiamo finito la nostra arma, va bene, cioè non va bene, però va bene lo stesso, ho messo su un'arma a caso, che è la nostra arma di partenza, non credo sia la migliore arma che possiamo utilizzare, per cui la useremo solo adesso, poi la cambiamo, giusto per usare qualche colpo, ok, torniamo sul fucile da cecchino, mi pare una buona idea, qui possiamo passare, no, no, solo dall'altra parte, è un livello veramente grande, mi permetto di dire questo, e lì c'è lo shop però, direi che ci andrei, anche se 35 soldi non sono esattamente tantissimi, magari qualcosa ci può dare, e hai un peperoncino del gangeon, che costa un sacco, una gemma rossa, che costa un sacco, un cuore costa 42, mezzo cuore costa 28, ok, immagino abbia senso cercare di raccogliere qualche soldino, per prendere questo cuore intero, suppongo, perché la sopravvivenza in questo momento è importante, un po' di armi li abbiamo, questi funghi, uh, chi sei te? Sì no, l'ho già visto una volta, e forse l'abbiamo anche visto una volta assieme, non ne sono troppo sicuro, abbiamo fatto poche, per ora poche sessioni, tu esploderai, immagino, credo proprio di sì, e tu sei il maghetto, che non so cosa faccia, quindi, mi tirò la larga, ok, ora so cosa fai, e non era esattamente questo il modo giusto per evitare il tuo attacco, abbiamo 35, costava 37 forse il cuore, direi che lo vorrei prendere prima di continuare questo, il nostro gangeon, qui ne andiamo a vedere quanto costava quel cuore, c'è anche un oggetto qua, adesso che vedo, che è una mappa che costa 49, l'HP costa 42, ce ne mancano 6, dovremmo potercela fare, a farli, a fare questi 6 soldi, immagino possiamo chiamarli, proiettili, mi sembra un po' pericoloso come nome, quindi cerchiamo magari di chiamarli, non lo so, tanta è la valuta, di certo non possiamo chiamarli centesimi come in Isaac, se no ci sbagliamo, però credo che li chiamerò, boh, soldi, suppongo possa avere senso, non credo sia, possa essere frainteso come termine, ok, per questo obliteratore, 37 soldini, non benissimo, e su questo qua forse possiamo usare un'altra arma, anche questa non era male, adesso che ci penso, oh, anche questa non è male, e però questa la volevo usare per il boss, e abbiamo mancato, no, questa ha fatto veramente un sacco di danno, ok, quell'arma però la vorrei usare per il boss, se possibile, per cui magari, utilizzerò qualche altra arma a caso, giusto per sprecare munizioni, a caso, perché in realtà, non credo sia la migliore delle, le migliori delle strategie, se possiamo lasciare quei proiettili, sono contento, 40 soldi, un corno, e il corno è, quando il dovere chiama, corno dell'incantatore, ok, andiamo a vedere cosa fa il corno dell'incantatore, tatatà, un usetto attivo, soffiando nel corvo, se c'è qualcuno nella vicinanza, correrà in tuo aiuto, spesso il comportamento degli morti, cerchiamo di ricordarci questa cosa, è davvero indicefrabile, a lungo si è pensato che sapessero solo uccidere, ma poi si è scoperto che a volte, catturano determinati invasori, per scopi ignoti, inoltre, alcuni indizi fanno supporre, che abbiano una religione, o qualcosa di simile, e se fossero creature, con le quali è possibile ragionare, il fatto che abbiano una religione, non credo sia indice del fatto che si possiamo ragionare, comunque proverò a usare il corno, che non ha affatto, credo nulla, continuerò a tenere la polvere, perché immagino possa servire a qualcosa, con 40 monete, non siamo riusciti a prenderne abbastanza, per comprare il cuore, non vedo altre stanze da esplorare, suppongo compreremo quel mezzo HP, e proveremo ad affrontare il boss, messi come siamo, il cuore costava 42, peccato, colchiamo mezzo cuore, e andrà bene lo stesso, con 12 soldi non vedo un futuro proprio luminoso, ma abbiamo due cuori interi, abbiamo un'arma che sembra molto forte, che è questa, 19 colpi, un boss che probabilmente non conosciamo, infatti penso sia la prima volta che lo vedo, chi sei tu? Sembri veramente manzo, e molto arrabbiato, e sei Baldrog cannoniere, armi nel profondo, ok, non mi piaci, te lo dico, e non mi piace il fatto che non ho idea di quello che farai, però cerchiamo magari di non prendere danno sul primo attacco, che dovrebbe essere più facile da schivare, quindi prendo danno ovviamente, quest'arma la vorrei proprio sparare in face, usiamo un obliteratore, e comunque prendo danno, complimenti, fa un bel danno eh quest'arma, perché non mi è partita la rotoschivata là, non lo so, lì avrei proprio pensato di riuscire a farcela, ok, che non sarà facile far fuori questo boss, ma magari cerchiamo di non prendere danno idiota, ok, è veramente lento a caricare quest'arma, cosa sta accadendo qua? Uh, non mi piace, e infatti siamo morti, va bene, va bene, la mia discolpa a questo boss non l'avevo mai visto, ma sicuramente la prossima volta faremo di meglio, dai, in compensa siamo già arrivati al terzo boss, per me è un buon risultato, nel senso considerando che è il nostro terzo filmato, e penso sia la mia decima partita in totale, suppongo, non è così male, dai, aver raggiunto il terzo boss per la prima volta, abbiamo trovato un sacco di cose, sicuramente si potrà giocare meglio, ma sicuramente potremmo giocare meglio in futuro, che è la cosa che mi interessa, direi che su questa perla di saggezza vi saluto, ci vediamo all'un prossimo video, per quello di oggi è tutto, un saluto e alla prossima da Lord Kain, ciao ciao!